ciao come va? un po' di agitazione? beh si dai è normale prima di di una prima appunto di uno spettacolo dietro le quinte c'è sempre un po' di un po' di agitazione appunto ma si infatti adesso prenditi questo momento per te io ti trucco ti sistemo per lo spettacolo rilassati e poi sono sicura che andrà benissimo ok certo puoi ripassare nel frattempo si ma l'avrà imparato benissimo il copione ci sono anche molte scene corali interessante spero di riuscire a trovare un posto per vederlo da spettatrice e non dietro le quinte insomma io direi di iniziare nel frattempo allora fa tanto tanto caldo e sul palco farà ancora più caldo perché ovviamente con le luci ecco sì è vero una volta che sei sul palco queste sensazioni praticamente scompaiono sì perché c'è una concentrazione tale che non si sente più nulla però comunque il trucco può risentirne quindi ti applico un pochino di primer questo è molto fresco tra l'altro è vero che ti puoi rilassare si 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 così ok adesso dato che devi fare più personaggi ho deciso di non farti un trucco troppo specifico in modo che si possa adattare quindi è più un trucco di bellezza che comunque possa farti risaltare sul palco quindi ovviamente ci deve essere una buona base resistente è importantissima perché se no crolla tutto nel giro di 5 minuti quindi a parte il primer applicherò un po' di fondotinta e un po' di correttore per le occhiaie allora io inizierai dal fondotinta questo è molto buono è il mio preferito per ora e per le occasioni speciali è perfetto è di Fenty Beauty te lo applico con una spugnetta ma spugnetta ma spugnetta ma spugnetta per le cose per le cose ma spugnetta il è che è che è ok 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 Partito di questo video. ok, metto anche un po' di correttore questo è waterproof ok, guardate su ok stendo un pochino ok stendo un pochino stendo un pochino stendo un pochino ok prima di fissare ho deciso di metterti un pochino di illuminante e utilizzo questo qua che è un illuminante liquido si fissa molto bene comunque questo si mette prima della cipria poi si fissa bene quindi rimarrà lì bello fermo ed è un colore davvero molto carino questo qua ne faccio vedere Grazie Grazie Ok Adesso possiamo fissare Proprio alla grande Utilizzerò questa cipria Che è una cipria Oltretutto che non ha sirica Quindi non ti creerà Effetti fantasmini strani Magari ti faranno qualche foto Grazie 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 Aspetta Ok Grazie 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 Che sono queste Queste di nabla Queste di llamem crime e direi che magari possiamo utilizzare questa qua che ha questi colori bellissimi che secondo me ti possono stare davvero molto molto bene fare una cosa però davvero leggera quindi per insomma mettere in risalto gli occhi ma senza fare creare un look troppo specifico per un determinato personaggio allora prendo un paio di pennelli ok io direi di cominciare a mettere nella piega dell'occhio questo colore rosato che si chiama Dreamy chiudi pure ok ok e poi metto su tutta la palpebra con un altro pennellino rupture che è un color carni però leggermente luminoso quindi ti creerà anche uno sguardo un po' più sveglio ecco si si tieni pure chiusi oppure su chiusi come preferisci ok e magari possiamo mettere giusto vicino la piega dell'occhio ok e magari possiamo mettere giusto vicino la piega dell'occhio poco 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 di ecstasy bello sfumato che è un marrone ok e magari possiamo mettere giusto vicino la piega dell'occhio ok ti metto un velo di mascara che ha già delle ciglia bellissime quindi ne basta giusto poco su chiudi un po' gli occhi ok ok io direi che adesso passiamo a una delle problematiche ok ok io direi che adesso passiamo a una delle parti più importanti ovvero il conjuring perché ovviamente le luci sul palco abbiattiscono un po' il viso quindi fare un po' di conjuring è essenziale userò questa palette secondo me per te i colori perfetti sono questi due quindi da prenderne un po' un mix mix anche un po' di questo qui che è in realtà una terra leggermente iridescente ma secondo me può stare molto bene fai un po' il pesciolino ok ok si ci vedo un po' più pesante rispetto a tutto il normale ok ok e ovviamente un pochino di blush uso questo blush uso questo blush che è coreano è davvero bellissimo ok 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 3D pof 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 bene io direi che manca solo la parte delle labbra ho deciso di metterti in modo molto leggero questo rossettino sono sempre di Lime Crime che è MILF giusto per evidenziarle leggermente per rendere il colore uniforme si è un profumo buonissimo senti sta un po' leggermente con le labbra leggermente aperte così ma non tirate perfetto cosa fai? ok un'altra volta perfetto e ti metto giusto un pochino di lucida labbra di close si sempre con le labbra su chiuse perfetto ok ok secondo me ci siamo che ne dici? perfetto 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 ok allora io ti auguro in bocca al lupo che crepi malissimo ovviamente e non vedo l'ora di vedere lo spettacolo ciao grazie 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 grazie